Oggi pomeriggio alle 18 in Napoli sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia. L'obiettivo è quello di conquistare la vittoria per mettere tre punti in classifica. Calzona, la sua terza panchina partenopea alla seconda in campionato, sa bene che una vittoria può aiutare la squadra a ritrovarsi mentalmente. Sicuramente è una sfida che contrappone due squadre in difficoltà. In Napoli non riesce più a convincere e non è riuscito a dar continuità ai risultati con un nono posto in classifica. Il Sassuolo in simil modo non è quella squadra a mazza grandi e si ritrova a lottare per non retrocedere. Le sonere dionisi e la promozione di bigica sulla panchina sono il chiaro segnale di cosa non funziona nella squadra emiliana. Fatto sta che questa nono posto e con l'Europa che conta sempre di più lontana al Napoli avrà enormi difficoltà nel gestire il gruppo squadra, soprattutto con tanti calciatori che cercheranno di accasarsi altrove. Sicuramente le notizie che arrivano dall'Europa con l'Italia che potrebbe avere fino a 5 partecipanti alla prossima Champions danno speranza a Napoli di poter rientrare in corsa anche con un tentativo di assalto al quinto posto che dista solo 9 punti. Calzona, come già affermato, non stravolgerà molto in Napoli ma tenterà di punterlarlo al meglio. Nel suo 4-3-3 l'obiettivo è quello di migliorare la comunicazione tra i reparti cambiando i movimenti di alcuni calciatori come Kvara e Lobotka e riportarli sui binari della passata stagione. Oggi in Napoli scenderà in campo con Meret tra i pali, difesa 4 con Di Lorenzo e Mari Rui sulle corsie esterne con Nathan e Rachmani al centro. Al centrocampo spazio a Zelischi con Anglissà e Lobotka, compagni di reparto. In avanti il tridente composto da Kvara e Politano a supporto di Osimena.